Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video, io sono Blackforce, siccome dovevo fare una seduta di scansione di un po' di build, replay dei pro per prendere un po' di spunti Sono tornato a giocare dopo due settimane di fermo, vacanze, studio, esami, un sacco di cose Sono riuscito più o meno a caricare le replay abbastanza frequentemente Andiamo a guardare Ok Abbastanza frequentemente, perché comunque avevo fatto un buon fondo di video da caricare Allora, volevo andare a vedere un po' di build Questa è la build di Alives Il poke col tank in pvt E volevo andare a vedere un po' come organizzavo Allora, va a prendere una Gas First Ok A questo punto l'avversario ovviamente è un protos in... un computer protos very easy A questo punto ovviamente fa la caserma, quindi fino adesso una Gas First normale Ma andiamo avanti queste prime parti I timing mi sembrano tutti normali, non c'è niente da fare Poi ragazzi io vedo sempre queste build Poi cosa faccio? Vado a continuare a fare i miei drop di mine, i miei Reaper Tutte le cose che ovviamente sono confidente a fare Perché cambiare è sempre un dito al culo ragazzi, ricordatemelo sempre I costi di cambiamento sono veramente importanti A questo punto ovviamente farà l'Orbital Command Probabilmente, esatto, Orbital Command Reaper Orbital Command Reaper Non curiamoci tanto di cosa va a fare questo Reaper Poi magari vado un po' a parlarne nel dettaglio Poi, ok, qui trasforma Va a prendere seconda base Dove è qui la seconda base? Va a prendere seconda base Ok, a questo punto Vediamoci anche la visuale di questo pig Fabbrica quando ha raggiunto il centro di Vespene Dopo il Reaper cosa va a fare sulla caserma? Questa è una cosa abbastanza importante Va a prendere un'altra raffineria Timing della raffineria Va a prendere un'altra raffineria dopo che è finito il Reaper E va a mettere giù il reattore Ovviamente sulla caserma libera Ok, a questo punto Fermiamo un attimo Fermiamo un attimo Voglio dare qualche click Arriva il Reaper Qui lui non lo sta ovviamente utilizzando Il Reaper dentro deve dare una scautata Come è messo il Protoss Qui è una build a random Dato che il TOS è un computer molto facile Però Generalmente Occhio ai piloni Quanti ce ne sono Se ce ne sono due C'è sicuramente qualcosa In giro per la mappa Vedete queste risorse non utilizzate dal giocatore Protoss Computer Protoss Occhio alle Ai gas Sono apprezzati due come in questo modo Con due piloni Sicuramente c'è un starport fatto in giro Oppure di T Quindi dovete un po' stare allerta Continuiamo con la build in sé Ovviamente deposto per andare a chiudere E ovviamente fare supply Si continua in questo modo Siamo attorno ai Due minuti e trentasette Andiamo a vedere ancora Un po' più avanti Ok finita la fabbrica Si fa lo starport E qui si fa Il modo tecnologico Si continuano a fare marine Anche per cui il pericolo dell'oracle Comunque C'è E questo caserma con Con il reattore ti fa marina manetta Se scautate qualcosa di pericoloso Come un oracle per esempio Qui si può fare cyclone Al posto di fare Il tank Oppure qui fate un viking O un liberatore Quindi E' comunque una 1-1-1 Che sappiamo si presta bene A una fase difensiva Contro tutto quello che può farsi Il nostro avversario In linea generale Ok a questo punto Qui va a fare il tank Qui va a fare i marine Qui va a fare la medievac Ok Non ci dovrebbero essere altri Timing in particolare Voglio vedere soltanto la fine Ok Qui lui quando è pronta la medievac Parte con Con il drop E con i marine davanti Ok Quindi porta tutto in avanti In questo caso Va bene Volevo vedere quanto era il numero di marine 8 marine 8 marine ci sono 8 marine Una medievac E un tank Attorno ai 4 minuti Questa come linea generale Andiamo a vedere un attimo 31 SCV Che non sono male Come si continua? Si continua con un altro tank Con altri marine E qui invece cosa va a fare poi? Cosa va a fare? Oh 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 Da questo starport Non va a fare niente a questo starport Continua solo a produrre Marine e tanche Ovviamente Qui puoi andare a prendere base Qui Cosa fa? Fa un bunker addirittura Quindi build per mettere pressione All'avversario Bel posizionamento Questo da prendere Come esempio Volevo vedere se faceva anche Follow up Follow up con due caserme In costruzione Qui fa il liberatore Molto bella questa idea Dopo la medievac Fa il liberatore A questo punto Due caserme Ovviamente qui si va a fare lo switch La fabbrica si va a fare il reattore E poi si continua con un follow up Di bio standard Bellina questa build A me piace Devo dire Piace Piace Altro tank Quindi ci sono Diciamo attorno ai Cinque minuti Bisogna avere 35 SCV 35 40 SCV Qui credo che con gli SCV Non ho mai tagliato niente Una medievac Un liberatore Un reaper Due tank E 12 marine E a questo punto Puoi andare a fare La terza base Ci sta tantissimo Bella Ottima build ragazzi Magari la provo A fare il ladder Voglio vedere cosa Cosa succede Oppure magari la provo A trasformare Secondo l'esigenza Comunque l'idea di fare Pressione con il tank E poi Questo build Fatta Quando il tank Si poteva caricare Sulla medievac Era veramente OP Qui comunque Ci potrebbero essere Dei Problemi Mucci Molto forte Questa Contro Toss Non è male Non è male Offre comunque Sono un 1-1-1 Abbastanza Idee difensive Marine Liberatore Cyclone Puoi fare Abbastanza Parecchie cose Contro Adepte Bisogna stare attenti A questo bunker Può essere Veramente un salva vita Contro Adepte Stalker Li friggete Quindi Non è male Come build Consiglio di provarla Tutti Terran E Proverò Anch'io In In game A vedere Come Come gira Poi magari Vi porto Qualcosa Vediamo Se poi Magari Casto Qualcos'altro Di partita Terran Perché Appunto Volevo fare Un po' Una Scorpacciata Di build Bene Ragazzi Per il video Di oggi È tutto Io vi ringrazio Per la visione Ciao a tutti Ragazzi